I contatti sono essenziali, stringete alleanze e trovatevi degli amici. Allora ci siamo ragazzi, benvenuti, io sono Metimars e siamo qua, anzi, fatemi modificare qui che mi sono scordato, eccolo qua, siamo a un gioco nuovo che è uscito da pochissimo, che si chiama Pizza Ark, Pizza Ark, no, Pizza no. Allora, è un gioco praticamente alla, diciamo che mescola due giochi, Minecraft e Ark, quindi dovrebbe essere una combinazione molto molto carina. E io vi dico la verità, io ad Ark non ci ho mai giocato, perché, non perché non mi piace essere in realtà, diciamo che nel momento che era uscito Ark non stavo molto dietro al gaming, anche perché c'ho avuto un periodo un po' incassinato e poi dovevo portare una cosa e l'altra, comunque il passato, dovevo fare, insomma, sono uscite poi una marea di giochi, insomma, poi domani lo compro, poi la compro e poi non l'ho mai comprato. E alla fine siamo arrivati a questo, dato che così recupero anche quello ad Ark, che non ci ho giocato. Quindi, siccome a me Minecraft, come gioco, non mi dispiace, Ark non ci ho mai giocato, però ho avuto sempre l'idea di giocarlo, poi alla fine non l'ho mai giocato, ho detto, beh, prendiamo questo. Poi a me tutti i giochi open world con una buona dose di crafting mi piacciono, quindi io ne ho una marea. Allora, vediamo un po'. Qui possiamo anche caricarlo, tanto era appena iniziata la mappa. Allora, questo gioco si può fare sia multi che in single player, io al momento ho fatto single player, tanto per vedere un po' il gioco. Com'è? Poi magari una volta che siamo diventati un attimino più esperti. E a questo. E una volta che siamo diventati un pochino più esperti, magari poi facciamo il multi, se no poi rischiamo che ci assalgano ogni tre secondi. Già da quel poco che ho visto questo gioco, che sembra facile per la grafica un po' così, diciamo, cartunesca, ma in realtà, da quello che ho capito, è abbastanza difficilotto. Allora, abbiamo sia la visuale in terza persona che quella in prima, io previsco sempre quella in prima. Ok, il movimento, sì, va bene. Poi abbiamo il simbolino, adesso abbiamo il simbolino, credo che il primo simbolino con le freccette con il più sia l'esperienza. Tormenta piano piano piano, poi va bene, c'è la quantità di roba che si può mettere nello zaino, l'acqua, la fame, la vita e il fulminetto. Fulminetto, la strucce fulminetto, non so che cosa sia, si, è più che si riesce a recorrere. Ok, sì, infatti ho già fatto un livello di esperienza. Come facciamo a tamare gli animali? Non lo so, vedremo. Il momento a me interessa che altro costruire. All'inizio, con il C ci abbassiamo. Possiamo prendere la legna a pugni peggio le rochi e poi credo che ci possiamo fare anche qualcosina, però. Il crafting non so quanto sia credo sia dovrebbe essere una roba enorme. Non ho idea, comunque i livelli, non so se è tipo a livello 100 o a livello 80 giù di lì per sbloccare tutto. Quindi fosse a livello 80 di roba sarebbe anche abbastanza buono. Abbiamo l'ascia, il piccone e lo stuzzicadenti. Allora, per prendere le pelli noi all'inizio dovremmo ammazzare questo che è il dodo, però mi dispiace perché vedi, già piange e non vabbè poverino. Poi ti guarda negli occhi mentre muore e piange, cioè è proprio brutto. di ammazzare il dodo. Ehi, vabbè. Lo spaventare e vabbè. e altri che ti ammazzano a vista. Prendiamo un po' di bacche che sia per levarci la fome ma anche per tamare gli animali. Io non so come si fa a tamarli perchè non avendo neanche noi ho giocato dark. Cacca cubica. Gli fa schifo, te lo chiede perchè si vede gli fa schifo allora te lo chiede ma sei sicuro? Vabbè servirà qualcosa eh? Per utilizzare un qualcosa. Allora io vorrei intanto costruirmi un rifugio, qualcosa. Credete che quelli siano delle torri per spawnare, credo. Sono già livello 5 eh. Sto facendo quasi niente. Ecco con la hitz, con la hitz. No, non ti accucciare. Con la hitz. No. Con la hitz non è quella che si abbassava? Scusate. No no, si accuccia. Che figata, non lo sapevo. Ma perché questa cosa? E' che la C si abbassa. Non capisco l'osità di strisciare in questo gioco qua. Non è che dobbiamo fare delle missioni stealth o proprio del genere. Qui non ho il livello. Terra. Ok, noi prendiamo tutto quello che si propria all'inizio. guardate. Ok, un po' di flint. Si. Prendiamo un po' di flint. che cosa? Com'è quella roba l'ora? Oh, 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 oh. E' che piccolosa? E quindi? Allora, intanto guardiamoci inventare questa roba che ho raccolto. Ok. Cacca media di dinosauro. Questa roba che abbiamo craftato e questo dovrebbe essere tutto il crafting. Livello 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 45, 55. Allora, il crafting da sbloccare è fino a livello 55. Però qua sotto c'è fino a livello 80. Quindi ogni livello ti da dei punti che sono questi. Noi i due punti sblocchiamo. Quindi a regola a livello 55 noi dovremmo aver sbloccato tutto però. Oppure bisogna arrivare a livello 80 perché in realtà i punti servono più punti. Non si so. Vabbè, comunque noi cominciamo dall'inizio. Allora, abbiamo anche la fiaccola, il campfire. Ok. Questo qua non va sbloccato questa roba qua. Poi i calzoni. La chest. Questo sì. Questo che cos'è? Il letto. Le fondamenta. Prima costruzione della casa. Eh... Ok. No, abbiamo ancora 23 punte voglia. Perché non me lo sblocchi? Lo sblocco tutto. Questo può essere utile. Livello 7. Questo non ce lo sblocca. Perché questi qua, questi tre no? Cosa ci manca? Non si sa. Allora, intanto vediamo se io posso fare qualcosa. Cosa? 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 Questo. Eh... Cappelletto già fatto? No. Questo abbiamo già fatto. Buuh, lo rifaccio. Questo. Lo faccio. Account fire. Cosa mi manca? il flint abbiamo il resto questo va qui i pantaloni vanno qua questo è un cappello e qui cos'è che cos'è che va qua difesa allora io non capisco questo ah una questa ok magari le queste le vediamo la prossima volta ah comunque esperto è difficile dobbiamo prendere la pietra però pietra come normale oh 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 calmo calmo se passa vicino mi dà una testata questa mammazza allora dice che siccome ci sono anche le queste in questo gioco però io non le volevo fare al momento e allora Alessandro si grande Alessandro veni a fare i chiacchiere sul disco dale eh si è praticamente Minecraft è anche minecraftato praticamente caruccio mi piace poi tutti gli open world ok lo sto attamando se stai fermo tutti gli open world con crafting a me più o meno piacciono poi non avendo giocato a dark nel tappo finito tattamando vuole forse ho non abbastanza bacche sei innamorato comunque niente se forse gli servono gli servono altri tipi di bacche non lo so bisogna stare attenti a chi si avvicina tattarugone spettacolo femmina sarà un aggressivo? talve no tattarugone spettacolo io la voglio livello 19 ciao ciao allora più che spettacolo io mi metto qua in cima metto una sella qua in cima vado a giro non è molto come dire andiamo andiamo non è molto conveniente in quanta velocità diciamo anzi è abbastanza lentina però poi si ferma perché purina è stanca ma sarebbe una figata non c'è mica troppo vai in acqua mi va in acqua lei? ti fa il bagnetto? ecco vadi vadi ah bellissimo si ma infatti guardi io l'ho visto l'ho visto l'ho visto da da Mirko e devo dire che mi è piaciuto subito poi c'è anche le condizioni atmosferiche c'è la bufera c'è addirittura c'è anche degli elementi di magia c'è un sacco di di roba veramente cari quello madonna cos'è cacca questa? più grossa di me tra un po' allora basta cazzeggiare dai vediamo la print allora quel robottino lì c'ho dato la quest bellissima che passa il brontosauro lì come si chiama trovemo tutto poi è anche difficile come gioco sembra sembra tanto una cavolata sto gioco qui una cosa tanto che invece ho visto qualche che è successo? ho visto qualche video è anche difficile 8 ora io l'ho provato così mezz'oretta prima di fare un live quindi ancora devo allora la print l'abbiamo presa vod a tonnellate non litigate eh ragazzi questo è pericoloso no però è livello 44 la tartaruga mi ha conquistato un uovo se ne ho più io ho paura che qualcuno si incavoli però perché ho già eh eh su di questo qua del sticosauro là meglio di no che l'altra volta l'ho preso e mi ha attaccato giustamente io non mi dovrebbe attaccare 9 comunque ci sono anche di livello basso quindi ce la facciamo eh ma non me lo trama perché è quello di prima e non c'ho livello perché che livello è un coniglio livello 68 e non mi guardare così no però dai ah no era questo nella fossa forse d'ora che piange no c'è anche cosa c'è anche il cuoricino vabbè noi forse era lui che devo tomare boh mazzati a chi c'ha questo anche il tricerate è uno dei miei preferiti livello 3 livello basso scusate livello 3 non ma lo posso tomare livello 3 livello 3 e il coniglio livello 3 ehm allora livello up facciamo che mi sta stessando con il livello up e mettiamo un po' di stamina in più un po' di vitalità in più acqua cibo e peso un po' di punti sul peso perché io non ti amo maledetto ti amo più bove però aumentato vabbè allora tanto forse non ho le bacche io provendo ancora ma stai buono ore stai buono è un gioco puccioso gli animali non ti farebbero mai del male va bene Alessandro se me lo dici te se me lo dici te ci credo eh vado proprio sicuro tranquillo ho la tua parola no però era a parte tutto il dato che piange e da maledetti eh ma c'è tutto il cuore ma cosa vuol dire che sono pacifici tutte le femmine mi amano è livello 2 quindi io se è livello 2 lo potrei già prendere fiori vieni 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 col fiore allora intanto noi la lucciola livello 2 la lucciola vieni qui dove andate vieni qua dai ferma dai 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 oh lucciola adesso è mia adesso è mia no è morta bene no è mia ah bellina lei praticamente se non ho capito male mi dovrebbe fare luce di notte qui abbiamo flint questa che cos'è argilla a clay io vorrei fare la casa in un posto interessante dove c'è l'acqua vicino materiale interessante vicino ma c'è la roba celeste io mi piacerebbe farla in una grotta piacerebbe però la grotta io penso che sia pericolosa cioè sicuramente è pericolosa mi piacerebbe farla sott'acqua però non saprei come eliminare l'acqua cioè farla una casa qui dentro e poi ora in single la puoi fare anche a vista la casa va bene ma in multi ho provato una partitina in multi più la fai nascosta e meglio è perché non si sa mai magari la gente passa di lì o ti ruba tutto se non riesce a rubarti tutto magari ti spacca tutto ovviamente per il piacere di farla quindi più la fai nascosta e più ti fai cavoli tua e gli altri anche si fanno i cavoli di loro che è la cosa più importante l'ignore in single magari non serve e questo? questo è cattivo no c'è la c'è il cuore ok non ha problemi di sorta che livello è? 13 15 noi siamo 8 ma si dico Bob la casa suggerimento per la casa dove farla? dove farla? mamma mia che impesti l'unico non ce l'abbiamo già non capisco da una luce alla livello 2 16 cosa cambirebbe? un po' più giuce? non credo che cos'è qui? che c'è la fila? chi è l'ultimo? io vi lascio lì vediamo eeeh comunque se non vedete qua in cima cosa c'è ecco non cominciamo a cadere qui perché sarà la fila non so se ci sono i danni da caduta credo di no al momento ragazzi è sempre tacci è sempre un accesso anticipato quindi ecco se io comincio a scavare quindi ragazzi c'è sempre tempo per per varie cose anche se già adesso ha un ghiaccio neve carino cosa ci farò con la neve? che mi si scioglierà pure no? uuuuuh tutto è nevato giganto pitecus con chi si mena? questi questi gli girano come non gli girano come un frullatore a questo guarda che questo si è fregato pure la roba buono buono scimmia scimmia aiuto scimmia aiuto mi è nato pure la scimmia c'era il cuoricino penso che mi lasse una mano la scimmia la scimmia mi è andata una mano a morire abbiamo perso anche la lucciola nooo la lucciola mi serviva ok quello nella barra gli oggetti nella barra veloce noi li abbiamo persi io laggiù al momento non ci non riandrò laggiù perché ci ricrepo non ho voglia di che va 20 volte per andare prendo 3 barche e 2 pezzi di legno poi magari ci andiamo quando siamo un pochino non so se dopo un po' la roba sparisce perché laggiù ci segnerebbe dove c'è scritto lì ci segnerebbe dove siamo morti e propriamente dove c'è il sangue o la roba ora se non c'è tanta roba e siamo in un posto che ti posso camare stai fermo cosa mi manca no non non mannelli mannelli e vai vai perché dovete tutti fare questi versi e guardarmi negli occhi mentre vi ammazzo brutto questa no sì non voglio cambierla basta ora di notte non ci vedremo niente perché non c'è bene anche quella lucciola sarà rimasta laggiù la lucciola qui c'è la mappa e ci sono praticamente anche io no è questa ok c'è la roba strana cosa è quella roba lì ecco cosa sono i polmoni praticamente la resistenza sott'acqua contro il course cos'era ok si sono pacifici buono non vorrei colpire lo che sbaglio perché è la fine questi questi qua non sono pacifici credo 15 va bene siamo qua a scoprirlo corri corri devo andare qua su perché c'è qualcosa che mi attira qua su non so che cosa qui c'è della pietra però se non c'è se non c'è sira questo è sempre attivo vediamo un po' se vuole della pietra normale con della pietra lavorata no probabilmente stone no questa è roccia è un attimo ma da cosa non posso nemmeno scavare in senza pace vai vai vola sopra vola sopra vola sopra vabbè lasciamo la roba laggiù un'altra volta riempiremo la mappa di design solitari ecco da qui si ha una visione di tutto almeno di una parte però comunque sarebbe carino fare una base qua però io credo che qui sia abbastanza pericoloso laggiù no no aspetta un attimo laggiù vedo già c'è una tigre eh no qui è pericoloso molto però sarebbe buono perché ma sono qui io ma allora in montagna non ci possiamo andare allora mi sposto guarda un po' pensi di fregarmi eh tiè lasciamo un troppo altro design al giro no 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 in grotta no in grotta no ok bello guarda che grotta mi guarderebbe un monte però è un presidio discorso è pericoloso ma questa che qua si è ma secondo me è stone non ce la fa neanche a a prenderla ma che bello si è tutto quel lucchichio no animali non ce ne sono femelle giante ma che finaccia eh tutto questo cicchio strano sarà il limite della mappa questo si rompe questo no o non sono in grado di romperlo quasi strane vabbè cos'è? cos'è? allora ma questa roba luminosa ma che cavolo è? che cavolo è sta roba? ma dove cavolo sono atterrato? su marte posso fare una torcia o qualcosa? una torcia la posso fare però serve legno e flint ecco niente ma dove lo becco io qua tutto è stato avveno strano guardati dove mi sono andato a caffogna riusciamo va il buio perché mai ah per me sto posto mi piace c'è una marea di acqua allora dobbiamo trovare un po' di flint da qualche parte c'è solo sabbia credo sia sabbia non devi fare niente non è possibile se sabbia dovrebbe andare via cioè si vede che bisogna cafftare palette e secchiarlo non fa un'idea qua vabbè comunque niente per ora abbandoniamo il progetto non c'è danni da caduta è tutta una grotta quanto dura la notte? 1.52 a voglia te perché non riesco a bucarla che cos'è sta roba? non riesce cioè quindi io sono intrappolato se non riesco cioè o trovo una via ho capito mi devo uscire da qui maledetto questa la rompe perché quella la rompe? non è la stessa roba non è la stessa roba c'è sta cariniamo cos'è? ah un po' di roccia no cos'è? no cos'è? non ho visto la finta dietro se ci facciamo una torcia sennò non sapete niente allora oh mettiamoci la torcia qua roba marcia non ci serve ma che sta arrivando giorno abbiamo fatto la torcia ma sono sempre le tre bene bene io però se devo scavare non posso tenere la torcia va niente ma andò basta mi faccio la casa qui deciso ah si la butto per terra ok mi fa un po' di luce accanto un po' di robetta e facciamo la base qua no ma intanto siamo a livello 10 questa perché non la rompe? che cos'è? non capisco però se non posso modificare cos'è? veleno? è successo ho detto una bestecca cosa mi sbaglio poi ci sono anche quelle che possiamo raccattare di torce dove me l'ha messa? ci sono anche quelle che possiamo attaccare alle pareti questa non credo non si può che schede se è marmo addirittura? ma non ce la fa e c'è un sacco di robe che non... c'è un sacco di materiali un sacco di materiali quindi se c'è un sacco di materiali vuol dire che c'è anche un sacco di roba da craftare bella questa credo sia marmo sembrerebbe marmo io però non dove vado eh piccone di ferro si poi non so se esiste... chi è? ma in acqua? ma chi è in acqua? ma chi? ma un... 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 un coccodrillo aiuto un coccodrillo aiuto 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 vai via vai via via aiuto 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 Questa mi sa che è per fare il bastone magico. Che figata. Allora, c'ho qualcosa da mangiare? Vediamo se recupera un po' l'energia. Sono finito in un postaccio, perchè qua non potendo nemmeno modificare il terreno, non posso nemmeno costruire. Il problema è quello, perchè se devo costruire una base, il terreno lo devo poter modificare un po'. Io qua adesso non posso nemmeno prendere l'acqua, perchè cerco il corrillo. Guarda, 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 guarda. E' qui, eh. Guarda sto maledetto. Non lo vedo, ma lo sento. La canicca aspetta. Non casca l'acqua di sotto. Questo mi segue, eh. Ok, la traccia non serve più. Sono le 5.14. del già giorno, meno male. Si vede, siamo in un periodo estivo. Che sono curioso troppo quella grotta lì. Che poi alla fine di questi giochi qui non faccio mai un cavolo, perchè vado sempre a giro. qua è la roba verde che salta. Chi è questo? Così, questo io ero lì a farmi i cavoli miei, non lo guardavo nemmeno. Andiamo via di qui perchè qua è un macello di quelli brutti. Andiamo qua. Piragne, ah, anche i piragne, mi fa piacere. Mi fa piacere. Piragne e coccodilli. Oh, un bel po' di terreno verde. Buono te, eh. M'angoscia a me sta freddita. Che vuoi? Che vuoi? Buono te. Ma vedi sono già nel dramma io. Tu ci metti pure te. Allora, vediamo se riusciamo a fare una mini base oggi, eh. Perchè abbiamo già girottolato a vuoto come dei minchioni. E poi io sono talmente curioso, no? Cioè, vedi una grotta, come fai a non andarci? Quelli che credo siano i robottini per fare le quest, ma... Cioè, vedi una grotta così, no? Come fai a non andarci? Ti attira. Poi è mortale la grotta perchè poi dopo non riesci nemmeno a ritornare su, quindi... È una trappola mortale per i curiosi come me. Però, allora, facciamo fuori purtroppo un dodo. Insomma, dispiacere. E pure ti guarda. Non ti guardasse... Sarebbe anche più facile. Ti guarda negli occhi. E piange. Direttare pure la parte di sviluppatore, secondo me. Allora, serie, eh. Mi raccomando, lasciamo stare le bestie. Questa un'altra volta penso mi abbia ammazzato con la coda. Credo. Non volendo. Non volendo. Finta. Che sarebbe anche giusto come me. Cioè, nel senso, sono lì. Mi passa. E su una caccola di naso. E lui si è scaccolato con la coda. E lui si è scaccolato con la coda. Ecco. Questo cos'è? Il dormisauro? Il tapirosauro? Non lo so. Non ho delle conoscenze molto ampli su questo momento. L'unico che conosco. E' Fuffa. Per me, eh. Ah, basta con questi robottini. Basta. Non li vuoi più vedere in vita mia. Questa cos'è? Sabbia. Ah, vedi? Questa è sabbia. Quella di prima allora cos'è? Scorpione. Scorpione. No. Ovvio. Condo. C'è anche il condo. Perché no? Ah, le prende così. Condo. Sarà pericoloso anche il... Ma io non... Ma perché mi faccio queste domande? Bisogna andare via e basta. Giusto che poi c'era anche la legna magica. E' vero. Una cosa forse interessante che avevo nello zaino. E' andato perso. Vabbè. La facciamo. Una casetta. Vado, vado. Poi mi vengono gli incubi di notte. Ma no, eh no, mi fa rompere. Stai nel tuo laggiù. Dove... C'è... Ma vai via. Ma perché? Anche il condo rompe le scatole. Vai là. Stai laggiù. Picchia il dodo. Allora. Io direi. Dove la facciamo? Facciamola qui che c'è un po' di tutto. No. Sbaglio. Vi. Vi via. Tantì. ViBC. allora vediamo 51 punti buono questa che cos'è se una sella questo non ho capito selling voglio sperimentare tutto dragon carpet magic carpet si vola c'era un gioco nel playstation 1 che si chiamava magic carpet che era spettacolare che si ricorda ma guarda mi vengono a mente certe cose era bellissimo ma io vado vanno ma è tanto zero punti a vedere qui c'è lo stone pick quello di pietra il piccone di pietra eccolo qua poteva andare dritto prendermelo non aspettare altri punti allora intanto noi possiamo fare una casa di legno volendo quindi andiamo sul craft e mi manca il legno no cosa mi manca praticamente l'erbetta e poi non sarebbe grass l'erbetta prendiamo qua prendiamo qui prendiamo su prendiamo su l'erbetta te ne dà abbastanza non occorre prenderne tantissima ok andiamo un po' o quasi tutto allora facciamo una di queste sicuramente poi facciamo il legno a fondamenta di legno la fondamenta dove sono fondation queste una ventina sono queste vediamo perché prima le faccio e poi dopo ci penso penso sempre di incontrare allora qui no mi dice qua che si è brutto quando deve metto posso mette dove mi pare scusa perché no e qui no ma perché c'è l'erbetta forse sembra di pietra quasi più che di pietra oh che bel lavoro quindi facendo quindi facendo quadratino per quadratino io preferisco anche perché il suo altro anche se non ci ho mai giocato però ho visto qualche gameplay faceva una parete intera un pezzo di una parete intera quindi invece lui mi perso in quadratino però alla fine è meglio perché te la fai anche più come ti pare fondamentalmente questo è l'ultimo questo è l'ultimo qui no niente finiti qui allora poi qui più la ridosso è brutto qui ma il coniglio ma oh ma cioè poi la spazio è tanto grande qui vieni poi ti lamenti pure qui con gran fatica molta fatica ci vuole quello quello un pochino meglio allora tanto ne possiamo fare il campfire il primo ma con arancia la porta però la porta questo le trappole anche possiamo fare e il muro mi interessava muro semplice oppure anche questo però proviamo quante 10 è un po' una piccolina però si vabbè tanto ragazzi no proviamo un po' bene e le fondation non l'ho finita ma ho messo 20 me ne fai una ma allora dimmelo subito che non ne ho più vabbè diciamo che va bene questo allora allora prendiamoci dodo 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 ma no ma non andare in mezzo ai piedi che mi schiaccia mi schiaccia ah devo forse premuto no devo insistere devo insistere non lo so oh ce l'ha fatto ti chiamerò appunto e sarà il tuo nome è dato che ci ho messo tre ore allora adesso converti mamma mia ordina cambia nome è un inventario anche il suo personale bisogna dargli una sella bisogna dargli una sella ah segui a distanza media quindi c'è un po' di ordine diciamo ah che modalità aggressiva neutrale vabbè lui mi segue adesso sì mi segue vieni a casa e coniglia mi sta anche antipatica io questo lui il condo via 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 ma dove aiuto ma guardate ma è due secondi bravo ammazzalo già ne ho tomato uno ma è durato due secondi bravo grande tricerata può essere il meglio del medio seccalo ma è durato uno schiaffone anch'io vieni qui mi sono schiaffone anch'io in due addirittura grandi guarda resistente carne ti levi ma ti levi ma e cacca mamma mia che brutta anche qua si sta soffrendo allora ci la faremo prima di crepare a fare qualcosa a mettere un letto tanto per essere sicuri di non morire e finire chissà dove bravo devo prendo attento una cosa semplice non capisco perché fatto da me deve essere tutto ridilmente complicato questo per rimuoverlo non si sa picconate allora adesso abbiamo un po' di legno o legna facciamo una decina di foundation ancora perché è rosso uno non basta no per uno e quattro ok poi servono un po' di wall vai e boh un milione una ventina è entrata dove la facciamo qui qua giù ma perché ma di tutti i posti io va bene che capito mi vuoi bene che ti voglio bene ma voglio dire perché mi viene sempre i cubetti dispari non riesco mai a fare una porta centrata in vita mia perché ma voglio adesso una volta chiudo tutto e mi entro nello stesso adesso lucciola 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 e qua lucciola non è andata finire scomparse ma poi mi è anche cacato in casa oltretutto cioè questo passa mi rompe le scatole e mi cacca pure in casa e manco si è sogna la porta chiuderemo così alla alla buona ma voglio chiudere la porta è già fatta no voglio chiudere voglio fare una cosa compiuta finita e compiuta a due l'avevo già fatta bene ecco occupa due posti non non è sapersi voglio levare non posso levarlo no no che è successo mi voglio levare non ci levano quindi se non sbaglia ah ce lo sta levando assurdo però scusate ma io posso fare una bella cosa 40 punti ecco me lo vado a prendere così poi ne riparliamo pure questa quindi non li devo manco far per per fila posso anche scegliermi quello che mi vale letto la fionda la torcia non so cos'è un banco da lavoro di non so cosa le selle le selle eh l'ultima non ce l'ho ok allora facciamoli subito piccone di pietra e uno poi l'ascia di pietra non so che non la posso fare la sella la torcia è quella che si dovrebbe appendere credo basta passarmi in casa vi sento e vi vedo pure e il resto non ho i materiali facciamo un'altra torcia ma comunque sono già contento perché ho fatto piccone in pietra e fa uguale ma cosa cambia non è possibile basta date via voglio fare l'eremita io nella vita basta ma si vira è già buona che non me la distrugga in una casa perché se uno le si retta a tutto passa un pronto saura si così in casa la schiaccia come fosse una lattina oh ascolta ce la fa no? tu l'obbligato allora che è questo print ma vediamo come scava beh eh sì più rapido ma no molto più rapido non andiamo più giù perché poi non so come la macchina è diventata una macchina mamma mia macchina di distrutturazione albero print no Sarà che ti posso tomare a te? Non posso. Sono livello... Sono livello 12. Due livello 12. Ora questo dove vai? Ma dove vai? Dov'è la porta? Qui. Ma mettiamoci anche lo sfignetto. Così ci salviamo la roba. Vabbè. Fotto. Vai. Ne ho due. In serio? Ne ho uno. Faccio un altro. Vai. La casa è piccolissima. È da fare schifo. Però... Spero sia almeno funzionale. Abbiamo le torce. Queste sono quelle da appendere. No, forse sono queste. Eh sì, se non ho il muro... Dove le appendo? Il letto cosa vuole? Ah, la pelle. Con l'oro si prende. Poi... L'accetta di pietra. Serve la pietra. Ma va. Non lo sapevo. La scaletta però sì. Hanno due scalette. Facciamo pure questo. Quella fosse già fatta. Non lo ricordo. Ma le faccio. Ma chi... Ma chi se frega? Chi se... Questo abbiamo già fatto. Qua noi possiamo... Metterci la legna. Non ho ancora capito come splittare la legna. Possiamo fare pannocchia a rosto. Questo non so che cos'è. Una specie di carne... Ah no, è carne. Sembrava un... Un bicchiere a me. Una coppa. È carne. Possiamo fare le bistecche. Quindi io le bistecche ce le ho. Se le metto qua... Faccio... Accendi. Mi accende. Ma che siamo in Giappone. Trema tutto. Basta. E' tutto. Ma qui. E basta. Le sta facendo o non le sta facendo? Sì. Quante sono? No. Tutte. Quante sono? 50. 30. 2000. Fammele tutte. Ah. E me le mette qua. Quindi. Se le voglio mangiare... Ah. Le sta mangiando. Però non fa... Nei mazzi. No. Buttiamo un po' di... Di roba che non serve. Il bastone. Sì. La roba marcia. L'incatus. Adesso ci lasciamo. La porta. Al momento non serve. Delle casse. Noi possiamo mettere anche il codice. Ad esempio. Noi andiamo qua. Digitiamo un codice. E lo mettiamo. In modo tale che... Se siamo in multi... Ah ok. Allora. Per... Tamarlo. Devo aspettare... Che abbia di nuovo... Di nuovo fondo per... Devi le bacche. Ok. Grazie Alessandro. Ah. Lo devo anche nutrire. Poi il premio shift è per... Avere l'opzione. E col piccone prendi più flinte. E con l'ascia prendi più roccia. Ah. Ho capito. Col piccone prendi più pelle. E con l'ascia prendi più carne. Ho capito. E' esperto già. Allora. Qui è buio. Grazie Alessandro per le info. Quindi tanto non mi scordo di leggere la chat. Invece... Valletta. Leggo sempre in ritardo. Io quello... Ho fatto delle scale. Anche le ho rotto. E poi qua spaccheremo. C'è tempo eh. Allora io in realtà volevo vedere... Ah mi manca la raccia perché voglio fare. Lascia di me. Allora io in realtà la raccia. E' un po' che non è brillante. Allora io in realtà... Allora la regola adesso... Penso che si possa fare. Il Vood. Eh sì perché l'ho messo qua il Vood. Ho ragione. L'ho spento. Vabbè non me la avrà cucina di tutte. Forse sì. No forse si fa cucina di tutte. Ok. Il contento. Per ora me la metto qui. Allora legno. Che ci vediamo? Sono le 21. Le 21 ancora ci vediamo qualcosina. No ho capito. Quindi per tamarlo devo aspettare che abbia affano e dargli le bacche praticamente. Non è automatico. No. No. ragazzi vediamo la legna, lo facciamo... dov'è? ok, 1, 2, 3, 4, poi mi serve ancora un pochino di questi, quanti me le fa? 10, oh no, cosa possono un'utilezza? ma basta... cosa vuoi? non riesco, manco a metterli pezzi... posso fare altri? ma ti posso fare 14? non riesco a metterli pezzi... non riesco a metterli pezzi... non riesco a metterli pezzi... ormai la finiamo, guarda la casa... chi è? vabbè, coniglio... io non mi fido di nessuno... per tamare il triceratopo devi prima farlo svenire e tenerlo narcotizzato con le narco berry... e anche nutrirlo fino a che non finisci di tamarlo... ma questo in arc normale? anche in questo? sarà... questo io che... 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 anche se non... non ho giocato a dark... ma io che mi ricordo... c'era questo procedimento in arc... sarà che qui... è la stessa... l'entica musica... sarà un po' diverso... 14, 16... no... non c'è più il nuovo livello... perchè non vai via un attimino? vai via un attimino! allora... facciamo un altro po'... eeeh... con 10, 11 in attimità... vedete... queste qua... ora... si possono attaccare... ah no... non sono ad attaccare al muro... ok... non sono ad attaccare al muro... però... anche queste vanno a legna... mamma mia... io vorrei splittarla la legna... ok... vorrei un attimino... non so come splittare... la roba... vabbè... allora con il 5... mettiamo le ultime... poi la porta qui la... la metteremo... che non ve l'ha centrata... ma va bene... cioè per chiudere... no... in realtà bisognerebbe farne un'altra... e molti ci arrivano assù... perché poi per chiudere... diciamo che non crolli tutto come... a 7 day... che crollava... sì... penso di sì... perché non ti sono venute le opzioni... quando ti sei avvicinato a lui... vabbè... poi vedremo... magari... allora quelli piccoli... come... cioè quelle che portamato prima... non servivano... non servivano... magari quelli grandi... potrebbero anche servire... ma vediamo eh... ok... non vai giù... non sembra che ci abbia tutta questa resistenza... niente... non cambia niente... vabbè... poi metteremo una porta... finiremo qui... e teci... e teci... e teci... allora... ok... non c'è niente... vediamo un po' se c'è qualcosa da metterci qua... che non mi serve... questa sì... me la porta dietro... ehm... vabbè... un po' di scibo me la porta dietro... qui possiamo anche spegnere... e andiamo di torcia... solo che se ho la torcia... non posso... io... si è fatto male... brucia la roba... no... se ho la torcia... non posso usare... l'accetta... non posso usare il piccone... perché se io mollo... va tutto l'uso... dovrebbe una lucciola... perché la lucciola... sta sulla spalla... e questo invece mi sta sui... la danne da finire... col dono... questo è brutto... il carabottolo... brutto... allora... vediamo anche sulla mappa... dov'è... e al centro... perché finché non metto il letto... credo che non... non... non me lo segna dov'è... perché poi mi perdo in tre secondi... eh... quindi diamo un'occhiata a una mappa... è quest'angolino qua... quindi ricordiamocelo... perché io mi perdio anche la bellezza... ma le mappe sono anche abbastanza grandi... eh... per l'1.43... alle 5... già dovrebbe essere un'orario che... che si vede già... eh... quindi la notte nooo... qui no... qui no... qui no... se la stiamo andando... questa è quella roba che prima non riuscivamo a rompire... qui... il sandstone... Così il cactus cosa ci si farà a qualche altro? Vai, doveva, doveva Non malato niente? Questo col piccone mi dovrebbe da più pelle Venuto eroico E' spacco, intanto spacco qualcosa E' finito l'anno tanto, sento tutto, sento tutto Lucciola, Lucciola Vieni Che vedremo Lucciola 2 No Il contrario Lucciola 2 Bene Oh, adesso ci vediamo Molto carina spesa, la Lucciola Guarda, spero di non crepare come l'altra volta Perchè sennò è la Lucciola che porta male Ma si, prendiamo anche la cacca Scorpione 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 La Fionda La Fionda Allora la Fionda gli serve qualcosa, gli servono le munizioni Che non ho Che non ho Oppure no, ce l'ho invece Dov'è? Dov'è? Sparito Sparito Paura Eh Paura E questo? Se non scapevo Ma E' sul culo Arrabbiate 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 Vieni Un livello 3 un milione di colpi è un livello 3 è immortale questo è immortale ora becco qualcuno cioè sanguino pure sta sanguinando ma ho colpito 3 volte e ora sono in 2 pure chi è che ho colpito basta livello 3 niente ti escusi dodo ah è stordito e quindi capito ma se io ci ho messo 4 o 5 colpi questo di un dodo se devo stordire un animale un po' più grosso quanti colpi ci vuole? un milione? è stordito però non l'ho ucciso interessanti quindi da stordito dov'è Alex? e che è Alex? eh t'ho visto che l'hai fatta t'ho visto l'hai fatta dai che ti so che basta e non piange così non mi guardare così e poi non capite cosa che se faccio qui si arrabbia c'è la madonna tu lo aiuto era uno scherzo era uno scherzo ma qui non sta nessuno nessuno sa stare gli scherzi qua ma com'è? isecco non sarebbe isacco perchè isecco? allora dove sono morto? sono andata a noi è stata io che la voglio troppo è andata troppo cosa si corre vabbè io penso che adesso il ticillato non sarà più con rabbia no? ormai la mano la devo spaccata già è uno scherzo allora vediamo se io riesco a ritrovare io però ho messo queste grotte queste linee che abbandono poi ci devo andare inutili questo mi attacca? no no scuro? no c'è un materiale rosa ancora corallo questo non lo rompo scommetterci che questo è lo stone che mi chiedeva la quest non riesco a rompire quindi c'è un altro piccone a quello da fare perché c'è questa musica? cosa c'è questo? ghiaccio ghiaccio questo roccia no che cosa sia anche comune udio l'acqua ho fatto dei danni non posso tamarlo ma sì ma è 31 ma se lui è 31 io sono 14 no? la regola non potete amarlo ma perché sta ma perché? ma perché? ma è quello che ho fatto? mannergia vieni qui vieni qua vieni qui hai paura eh ora via sarà vero forse che ti ho fatto dei danni perché? perché? se 2 e 31 io sono 14 lo stava tamando mi sei arrabbiato no no non l'ho capito bene bene comunque sono quasi morto fungiamo magari recupera qualcosa c'è cacca ovunque cacca ovunque ho detto a mano uno di questi pipistrelli è cattivo ho detto a mano è uno di quelli che vola io bene te come stai? tutto tutto bene come dice il nostro mythical ex tutto bene allora la casa ma dovrebbe essere qui esattamente esattamente non mi dico che me la so persa eccola là la mia casetta brutta la mia casetta brutta mi sto in tipotico qua nel ghiaccio mi sto in tipotico scrabbeo ma io lo voglio ammazzare scrabbeo livello 2 oh è un livello 2 non ti ma guarda che maledetto si è tuffato laggiù mi sforco gli alberi basta moledetto albero non becco neanche l'albero oh guarda che bellezza di costruzione e se poi io vorrei cioè ma se io vorrei levare un qualcosa non posso com'è il discorso allora andiamo un po' per prenderci qualcos'altro allora l'interessante questo cos'è per dipingere le pareti questo abbiamo già studiato ma bisogna scoprire cos'è ah le frecce pure bella cosa questo per cucinare il muro di pietra addirittura la porta addirittura praticamente di pietra lo scudo la finestra un pochino più particolare le candele le binevine questa credo che sia tipo per per metterci l'acqua per bere forse per le bestie più che per noi la zattera non ci credo l'arco il letto ah ce l'hanno già studiato ok queste sono altre perché ci sono varie selle boh io ragazzi devo ancora capire il tutto quindi noi studiamo e poi bottiglia paracadute vestiti facciamo anche questo però lasciamoci un po' di punti tante volte servisse qualcosina però qua potevamo fare qualcosa in pietra sicuramente è più carino di questo aspetta facciamoci il letto ah ecco ah è l'ex e mica lo sapevo io scusa vieni come i secco i secco che è i secco che ne sapevo io da quando qua ti chiami secco facciamo questo perché il letto non lo posso fare ah mi manca la pelle quello dobbiamo fare questo comunque la casa poi la rifaccio la faccio più carina più grande questa è la brutta è venuta abbastanza bruttarella e soprattutto piccolina quindi ci prendiamo questo ci prendiamo questo questo lo voglio montare 8 poi me lo metto fuori guarda come è ho un bellino che per farci le nostre brodaglie è però all'arco le c'è l'arco le frecce vanno fatte ok per fare le frecce e c'è l'arco ci sarebbe anche la freccia una freccia un tipo di freccia l'ho studiata però vediamo un po' dov'è arco no eh no invece non l'avevo studiata ma come si è lasciato un po' di punti di euro allora per fare la freccetta flint e wood ma facciamo quasi più complesso mi spesso ok oh adesso si che si ragiona ecco però se vai così nessuno ti prenderà mai sul centro devi camminare un po' da 4 c'è questo andato proviamo sul poverino qua ok ok non voglio eh sì qualcuno un pochino più grosso livello 6 livello 6 oh è morto in due colpi in due colpi guarda la pelle adesso si che mi sento potente ah ti ce l'ho troppo no perché troppo sul pane cerchiamo un altro di questi belli grassocci che livello 6 46 no 10 quella madonna in un colpo addirittura oh lei bene bene 50 quella ma ma che si era quella che mi sento potente faccio un milione di frecce aggiudicato quanto ne posso fare 35 vai questa sera qui la rifaccio no l'ho già fatta questi sono pantaloni altri tipi di pantaloni massi massi facciamo facciamoci facciamoci un'altra no una cosa che fa la sella allora qui sono i pantaloni come i soliti no dobbiamo essere diversi vabbè praticamente quasi le stesse cose mi sciarpo no lui che mi scassa però lui no lui è non lo voglio fa male robottino male no 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 ma andate male via di mostriciattolo brutto e schifoso che mi aveva attaccato dov'è? dov'è? dove sei? era qui no? non c'è più ce n'è andato così che grotta è andiamo a funghi la cosa si è girando che funghi sono questi farsi anche una bella struttura qua dentro non sarebbe male funghi porcini buoni funghi velenosi buoni lava la lava il magma poi ci cresco anche dentro quindi sarà che la lava si può trovare la maniera di prenderla magari con degli strumenti oppure semplicemente segnala che un basso di lì non ci puoi andare quella roba là quella roba là brutta sarà cattivo o sarà buono e queste piante qui non le posso prendere chi è? fungu funghi ma mi potrebbe scrivere buono o cattivo no è cattivo ce l'ho all'occhio rossi come il demonio capito capito che non è aria capito che non è aria capito che non è aria no 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 qua scassi nella lava maledetto stati buono là ma stati buono là ma cosa viene qui ma nemmeno la fatica ad arrivare qui per uno come me valgo un centesimo bucato stai a casa tua stai al posto tuo e come sale che adesso qua aiuto stai lassù stai laggiù sa ma ora come minimo non posso nemmeno più scavare più male e se non potevo scavare era finita ma magari scavable e se lo ammazzassi da qui che tanto non può salire magari vale vale un miliardo questo ah mi fa male mi sa che non lo sente nemmeno eh mi fa male l'hai sentito eh maledetto vieni qui e scappi scappi eh però se scappi così lontano non so se lo piglio piglio e io come scendo questa macchiatta questo è fredente guarda guarda come si gira subito lo sapevo io io vi vi ciò io vi ciò guarda come corre si è cacchiato si è cacchiato si è cacchiato è cacchiato di brutta ti è cacchiato da chiocca ti tiro oh non ci arrivi qua su ma scappi eh scappi maledetto mi fa cascarsi nella lava vieni qua vieni capi capi vieni qua ti è disumano girati che ti tiro nella chiocca diretta corri 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 va 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 e va bene ma se rimani laggiù però No! Oddio, pensavo di essere cascato nella lava. Non ci pensavo più ora. Non ti giri. Girati! Girati! Come vuol fregare? Non ci ha reso. Non è riuscito più. O non gli sto facendo niente perché... Ma che cosa succede? Scusi. Scusi lei! Va bene. Non gli sto facendo niente a sto punto. Non gli sto facendo niente. Non gli sto facendo niente. Non gli sto facendo niente. Scusi. Questo è potente! Questo gli ha fastidio. non la decisce niente mi dai le munizioni nell'occhio pieno non la decisce e vabbè me ne vado no no vado via prima io è diventata finita frecce a un certo punto per una strana e sta lì nascosto in angoletto ok usciamo di qui comunque posto strano per ore strane così e questo si è cascato di sotto poi faremo tutta una scalettina qui per arrivarsi magari anche regolmente per tutte le volte vi darò il passaggio comunque è falso il rifugio qua dentro non sarebbe male anche perché qui di materiale ce n'è oro eh no l'oro non lo becca e ora anche questo è di altissima dell'oro non i materiali per tirarlo su ma che comunque c'è del materiale interessante direi che qua ci facciamo una bella base la prossima volta magari una bella scalettina che va su fino in cima e così vediamo anche per la specie di mostro lì se possiamo o ucciderlo o al limite tramarlo vediamo un po' va bene ragazzi direi che per il momento è tutto ci vediamo domani sempre qui su twitch ora sto guardando se spostare live invece che alle 5 o alle 6 io prima facevo dalle 5 o alle 8 magari lo spostiamo dalle 6 dicevo dalle 5 alle 7 magari lo spostiamo poi dalle 6 alle 8 vediamo un po' e comunque sempre tutti i giorni più o meno vediamo un po' o alle 5 sto provando un po' gli orari qual è quello che mi torna un pochino meglio e vediamo un po' da lunedì al venerdì ora magari domani riproverò a fare l'aria oggi l'abbiamo cominciato a lavorare dalle 6 magari domani riproviamo alle 6 vediamo un po' magari mi può tornare vediamo un po' io per il momento ragazzi concludo qui e poi la riprenderemo da qui magari facciamo un rifugio là sotto che continueremo a scavare là sotto anche se in realtà c'è della lava di vicino del magma quindi credo che il magma sia proprio la fine che ci sarà un limite fino a dove possiamo scavare ma comunque vediamo quindi ragazzi vi saluto ci vediamo domani alla prossima ciao a tutti grazie per la compagnia grazie per la compagnia